Si avvicina l'estate e in Irpinia si torna a parlare di emergenza idrica. Nei giorni scorsi ancora un guasto alla pompa di sollevamento di Cassano che ha riproposto il problema in tutta la sua drammaticità. Dal presidente di Alto Calore, Lello De Stefano, un nuovo appello alla Regione per riammodernare la rete idrica sempre più faticente e garantire l'aumentato fabbisogno. Mi auguro che ci siano risposte chiare da parte della Regione e che al massimo in settimana si abbia la risposta. L'estate alle porte, senza questa terza pompa, noi comunque portiamo anche circa 30 litri in meno che non sono pochi perché adesso non ne risentiamo ma sicuramente in estate si aggiungerà al problema dell'aumentato fabbisogno. Abbiamo la necessità, come già abbiamo chiesto a tutti i tavoli, di circa 500-600 litri in più. La Puglia, sembra dai calcoli fatti, ci potrebbe dare circa 300-400 litri per la prossima estate. Se la Regione interviene al tavolo interregionale dell'autorità di Bacino per dare questa autorizzazione provvisoria potremmo almeno tamponare l'emergenza. Parallelamente si vive un'altra emergenza ad Ariano Irpino in Contrada Creta dove i tecnici ACS ripetutamente intervengono sulla rete danneggiata dalle continue frane. Qui l'appello è a Comune e Regione per risolvere definitivamente il problema. C'è un problema di dissesto idrogeologico rilevante rispetto al quale è necessario che si metta in sicurezza quel tratto, dopodiché l'alto calore che già sta facendo il suo dovere anche in maniera molto costosa farà ancora di più.